L'ultimo ordine del giorno posto dal gruppo di Procida per Tutto ha portato all'attenzione di quello che è successo in queste giornate, c'è l'abbattimento di casa Ambrosino. Sì, non si tratta di un abbattimento classico perché dai vostri schermi ho appreso che il nostro concittadino lamentava che il Comune aveva improvvisamente revocato dei condoni del 1994. Non conosco i documenti, non posso dire. E quindi sono stato già attenzionato, come si suol dire, in maniera cacofonica su questo argomento. Poi lo stesso ragazzo, giovane uomo, ha detto che il Consiglio di Stato aveva censurato questo comportamento. Allora molte persone mi hanno chiamato e mi hanno chiamato e mi hanno chiamato e mi hanno chiamato. Però un problema di chiarimento c'è perché se poi il Consiglio di Stato dovesse vincere al Consiglio di Stato nel merito, poi a quel punto chi gli restituisce la casa a quella famiglia? Ovviamente tutto questo stando a quello che viene detto. E proprio per questo, perché non siamo abituati a stare a quello che si dice, abbiamo chiesto al Consiglio Comunale una relazione per capire le motivazioni che hanno portato a questo dramma. E quindi questo è il problema. Non è un problema, ovviamente le sentenze si rispettano, la magistratura fa il suo dovere, eccetera, eccetera. Questo è un prerequisito di ogni ragionamento. Però se un cittadino ti pone un problema, tu devi sapergli rispondere. Siccome ci sono tanti concittadini che ci hanno posto questo problema, abbiamo messo all'ordine del giorno questa esigenza, come prete il nostro regolamento, e credo che andrà approfondita. Grazie a tutti.